Da domani al Via è il campionato di Serie D. Dopo le due gare interne di Coppa, il vasto Girardi dovrà affrontare subito una trasferta nel vicino Abruzzo, ospite del Chieti. Una gara che metterà subito a dura prova la truppa al Tomolisana. Le due uscite ufficiali della competizione tricolore hanno permesso a mister Coletti di studiare i suoi uomini. La squadra ha risposto nel migliore dei modi, superando prima il Termoli e poi la Vastese nel primo turno, staccando così il pass per i sedicesimi di finale. Ora però testa il campionato. Il raggruppamento F, come ogni anno, presenta delle insidie. Ogni compagine lotterà sul campo per conquistare il proprio obiettivo. Analogamente agli scorsi anni, il vasto Girardi, anche per quello che si appresta ad affrontare, avrà come obiettivo principale la salvezza, possibilmente senza passare per i play-out come avvenuto nella stagione appena trascorsa, quando si rese necessario vincere in casa lo spareggio diretto contro il temibile Castelnuovo-Vomano, per assicurare giallo-blu la permanenza nel campionato nazionale di quarta serie per il quarto anno consecutivo. In questa direzione fin qui il lavoro svolto dal direttore sportivo Giglio, abile nell'allestire una squadra che ha fatto vedere fin da subito di cose capace. Le partite disputate in Coppa Italia hanno infatti dimostrato grande propensione al sacrificio e coraggio nell'osare da parte di tutti i giocatori utilizzati da mister Coletti, allenatore giovane ma con le idee ben chiare. Questi sono gli elementi necessari per raggiungere obiettivi così importanti e ottenere quanto desiderato da tutto l'ambiente altomolisano. L'undici titolare non dovrebbe subire grosse modifiche da quello visto in opera al di Tella, casacca numero uno per Petriccione, difesa composta da Canale, Gallo, Ruggeri e Modesti. Al centro del campo Grandis e Iacullo con Fiori pronto a supportare il tridente d'attacco Calemme, Vasquez e Lorusso, quest'ultimo in gol, nelle prime due uscite di Coppa. Intanto notizie dal settore giovanile. La Ionores del Vasto Girardi cambia pelle e si candida ad essere il polo di attrazione per tutto il settore giovanile molisano. La partenza è fissata per mercoledì 7 settembre alle ore 15 presso l'antistadio Acli in Contrada Selvapiana Campobasso, con un primo raduno aperto a tutti i ragazzi del Molise che hanno voglia di fare calcio. Alla vigilia della nuova stagione, Unchieti rimaneggiato è pronto a partire per stupire tutti e inserirsi nella colonna di sinistra della classifica del Girone F, dopo aver centrato la salvezza lo scorso anno, vivendo sempre ai margini dell'area play-out. Il nuovo corso del patron Serra sta trasformando la rosa e cambiando radicalmente volto alla squadra. Tanti riconfermati, altrettanti neoacquisti, solo per citarne alcuni, Luigi Palumbo, Loris Barbetta, Mattia Paoletto, Leonardo Baggio, pronti a giocare un campionato da protagonisti. Intanto la società Nero Verde ha comunicato le modalità per l'acquisto dei biglietti. Prezzi invariati, 10 euro per la tribuna, 5 euro per la Curva Volpi che sarà riaperta. Confermato l'ingresso gratuito per Under 14, Over 70 e per Le Donio. Un nucleo familiare composto da 4 persone paga soltanto 3 biglietti, tagliandi acquistabili anche domani presso il botteghino dello stadio. Con fischio d'inizio alle 15 all'Angelini, Chieti Vasto Girardi sarà diretta dal signor Alessandro Recchia della sezione di Brindisi, assistenti Massimiliano Miccoli e Leonardo Grimaldi, entrambi di Bari.